Ed eccoci qui, sì, non è stato facile, ma con un po' di fortuna siamo riusciti a farci strada tra la vegetazione. Catherine, seguimi, ma fai molta attenzione. Finalmente ci siamo. Guarda, Catherine, è incredibile. Siamo arrivati fin qui, alla scoperta di questo luogo sperduto e di come vivevano gli antichi abitanti. Beh, date un'occhiata qui, credo che questa pianta, con molta probabilità, offrisse loro del cibo. E man mano che ci entravamo nella vegetazione, iniziavano ad accadere cose strane. Vero, Catherine? Esatto, John. Foglie che cadevano e anche strani stringolini scesi sui muri. Oh mio Dio, ho sentito qualcosa. Sì, Catherine, in quel momento ho avuto paura. Credo di aver visto qualcosa di strano. Vieni, corri. Che tensione. Ok, ragazzi, nessun problema. Era evidentemente solo un gatto. Strane strutture sono state rilevate. È difficile comprendere a cosa realmente servissero. Sì, John, per non parlare di quando ci siamo persi di vista. Come vedete, in questo momento mi trovo da sola. Proverò a salire più in alto. E grazie a questo tronco cercherò John. John, dove sei? John! Ok, ok, ho fatto una scoperta eccezionale, un raro esemplare, il broccolo gigante. Osservate. Una scoperta più affascinante. E senza dubbio questa strana struttura. Molto complessa. Guardate. Sono con Catherine. Cercheremo di capirne il funzionamento. Fai attenzione, Catherine. Tutto ok? Bene, ora ci siamo. Tutto bene, Catherine? Sì, tutto bene. Fantastico. Se vi imbattete in qualcosa del genere, non replicatelo. Ora voglio farvi vedere un altro oggetto strano. Utilizzato probabilmente dagli abitanti del luogo. Wow! Bellissimo! È stato fantastico! Dopo ore di estenuanti ricerche, ci siamo imbattuti in una vecchia abitazione. Ecco, proprio qui. Vedete? Catherine. Catherine. Cosa abbiamo? John, questa è un'abitazione. Qui succedevano strane cose. Ecco, ho rinvenuto uno strano strumento utilizzato per eseguire sacrifici. Ben visibili le ceneri ed attrezze di tortura. John, ora andiamo. La situazione sembra pericolosa. Ora si sente un odore acre. Proprio qui, strani contenitori, con i resti dei sacrifici. Sì, è stata un'avventura emozionale. La scoperta di un luogo tenebroso e decisamente pericoloso. Ci è voluto tanto coraggio. Alla prossima!